tocca a me, tocca a me questo è lo squillo del popad qualcuno ha bisogno di aiuto oh, giusto Raider? ma tu non sei Raider? esatto, sto badando ai cuccioli, sindaco Goodway niente paura, la popatroll risolverà tutto tutti i cuccioli alla torre? di solito Raider dice popatroll al rapporto ricevuto popatroll al rapporto Raider ha bisogno di noi, cioè Katie popatroll, siamo pronti all'azione Raider, signore voglio dire, Katie, signore signora grazie cuccioli, dunque che cosa fa Raider adesso? Raider ci dice di quali cuccioli ha bisogno e che cosa devono fare va bene per salvare il signor postino avrò bisogno di Marshall userai la tua scala da pompiere per aiutarlo a scendere dall'albero non aspettavo altro e Sky tu userai il tuo elicottero per riportare il sindaco Goodway e Cicaletta al sicuro a terra prendiamo subito il volo credo che la popatroll sia pronta a partire forse vuoi dire al lavoro, popatroll sì, quello niente paura, signor postino Marshall la tirerà giù subito scala ora la faccio scendere, signor postino ti riporterò a terra in un battibaleno, sindaco Goodway imbrecatura presa grazie infinite Sky siete proprio dei bravi cuccioli allora, com'è andata oggi? che ti ha fatto un lavoro strepitoso, Raider ne ero sicuro il sindaco Humminger ha colpito un iceberg con la nave tocca a noi ripararla prima che affondi in modo che i passeggeri possano tornare a casa aiuto quindi per questa missione avrò bisogno di Rocky semaforo verde, signore servirà anche Everest ghiaccio, neve, io sono pronta bene, al lavoro, popatroll al lavoro, rimorchiamo quella nave forza Everest ora colleghiamo il popatroller a quella nave ottima mira adesso portiamo la barca a riva ci siamo, robocucciolo questa nave sarà come nuova non appena l'avremo riparata bene, così il sindaco Humminger potrà riportare tutti all'Adventure Bay ehi, ma dov'è il sindaco Humminger? il sindaco è... una caverna scommetto che il tesoro è qui dentro fermo, sindaco Humminger attento, sta causando una valanga mancava così poco ero a tanto così ecco, così dovrebbe reggere ora siete pronti a salpare Ryder, grazie per non averci lasciato al freddo non c'è problema in ogni occasione noi siamo a disposizione salve Conte come va la vita a Barkinburg? qualcuno ha rubato uno scudo lo scudo con la mappa per il calderone del sonno il calderone del... sonno? o crea una nebbia incantata che può far addormentare chiunque va bene, arriviamo subito sembra che in città dormano tutti quanti anche la principessa e il conte stanno dormendo non possiamo entrare in città se passiamo attraverso quella nebbia finiremo per addormentarci anche noi Ryder! il calderone è su un tetto vicino al Big Benji Sweetie si trova qui Marshall, Rocky, fermate quella nebbia ci pensiamo noi subito! vorrei tanto avere una sveglia per far alzare tutti Rubble, ma è un'idea geniale Chase, vai in cima alla torre dell'orologio amplificheremo il suono del Big Benji attraverso il drago megafono sarà la sveglia più sonora del mondo intero ma come facciamo? manca ancora parecchio alle 12 hai quella calamita? la useremo per spostare le lancette del Big Benji finché non segneranno le 12 ma come faremo a portare la calamita fin lassù? dovrai usare la catapulta wow, drago megafono in posizione Ryder catapulta fuoco grazie, Sir Ryder e cavalieri del soccorso ancora una volta avete salvato Barkinburg cavalieri del soccorso siamo pronti all'azione dobbiamo salvare Sweetie dal drago Sparks aiuto e poi riparare il percorso per questa missione avrà bisogno di... Skye! questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare! e Rocky? semaforo verde, signore! ah, bene! al lavoro, cavalieri del soccorso! oh, grazie al cielo siete già qui cavalieri del soccorso Skye, tu hai trovato qualcosa? per adesso niente drago e niente Sweetie tu continua a cercare e avvisaci non appena li avrai trovati questo pallo si è bruciato nel camion ho quello che mi serve e per ripararlo riciclare è meglio che buttare ben fatto, Sir Rocky e Sir Rubble Skye, hai novità sul drago in fuga? ho trovato Sparks ma è troppo agitato non riesco ad avvicinarmi per prendere Sweetie cerca di distrarlo, Skye può prestarmeli, per favore? grazie! Sparks! non sembrano due bei marshmallow giganti? vieni a prenderli! ti ho presa! oh, evviva! grazie rider e cavalieri del soccorso per aver salvato il torneo non c'è di che vostra altezza ogni volta che qualcuno combina dei guai noi siamo a disposizione oh, patrol siamo pronti all'azione, signore eh, rider? rider? sono qui con Alex quindi stavolta sarà un po' diverso andiamo super veloci i freni del mio veicolo non funzionano quindi ci dovrete fermare voi ma prima di poter fermarci dobbiamo riuscire a mettere al sicuro Alex per questa missione avrò bisogno di Skye prendiamo subito il volo al lavoro, pompa to roll! rider, non posso recuperare Alex ci sono troppi alberi in mezzo che cosa facciamo? e se ci incontrassimo a metà strada? preso! oh, ma mi stavo divertendo dobbiamo raggiungere rider è ora di andare alla massima velocità mi spiace, cuccioli la velocità interferisce con la guida dovrete cercare di rallentarmi Chase, proviamo con un paracadute ottima idea, rider ci penso io ho soltanto una possibilità non devo mancarlo pronti? via! wow, paracadute bella mira, cucciolo funziona! sto rallentando siete davvero dei bravi cuccioli non capita spesso di farmi salvare dalla mia stessa squadra ogni volta che ti trovi su un veicolo fuori controllo ricorda che noi siamo a disposizione siamo a disposizione po' patrol siamo pronti all'azione signore la città è rimasta senza elettricità fortuna che al quartier generale abbiamo il generatore di emergenza spetta a noi dargli una mano e ripristinare l'elettricità per questa missione avrà bisogno di Chase chi pensa Chase? bene al lavoro po' patrol guarda pensi che possa avere a che fare con il blackout sindaco Hamdinger la prego spenga l'insegna ha causato un blackout totale mai è un'opera d'arte e poi come si fa a spegnere un faccino così simpatico? scusi sindaco Hamdinger ma ad Adventure Bay serve l'elettricità e c'è ancora qualcuno che ha bisogno di aiuto andiamo Chase ma c'è una cosa con cui la Paw Patrol non ha ancora fatto i conti le batterie ricaricabili forza Megan Dinger non si vede neanche una stella con questa luce quale sarà la causa di questo strano sole? se quella luce non viene spenta perderemo l'allineamento dei pianeti meglio chiamare la Paw Patrol allora Sky usa il tuo gancio per allontanare la sagoma del faro ricevuto gancio vieni con me Megan Dinger guardate l'allineamento planetario procede proprio come previsto wow è uno spettacolo sensazionale Paw Patrol grazie ce la siamo vista brutta o meglio non vista non c'è di che ogni volta che le luci diventano troppo luminose noi siamo a disposizione cavalieri del soccorso siamo pronti all'azione signore Sparks ha congelato l'entrata del Big Benji intrappolando dentro la principessa e il conte chissà che freddo fa quindi per questa missione avrò bisogno di Rocky semaforo verde signore e Sky questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare ah bene al lavoro cavalieri del soccorso attento è molto scivoloso saldatore Ryder sono Sky li ho trovati fermo Clo fermo forse intendevi freddo atterraggio davvero brusco ma almeno ho ricevuto un benvenuto caloroso ciao piccoli sono fuggiti Ryder ma ho scoperto perché Sparks sputa ghiaccio è per via di quei marshmallow blu grazie per l'informazione Sky il tuo elicottero? se la caverà i miei nuovi amici mi stanno aiutando li hai proprio conquistati Sky come va con la porta Rocky? a meraviglia ottimo lavoro bravo siamo liberi ah sono usciti ora torniamo al castello e scaldiamoci un po' il ghiaccio si è sciolto e il Big Benji si è stato caricato adesso possiamo dire grazie cavalieri del soccorso non c'è di che vostra altezza in ogni occasione noi siamo a disposizione cavalieri del soccorso siamo pronti all'azione Sir Ryder Chloe ha catturato due cuccioli di drago e ora aspetta a noi salvarli ma dobbiamo stare attenti anche la loro mamma li sta cercando per questa missione avrò bisogno di Sky questo cucciolo cavaliere ha imparato a volare ah bene al lavoro cavalieri del soccorso siete bloccati boh boh così imparate a sputare il fuoco e a sciogliere tutti quei marshmallow cuccioli di drago chi vuole uno spuntino Sparks mi serve una zappa ci pensiamo noi Chloe cavalieri del soccorso ho bisogno di tutto il vostro aiuto arriviamo subito Sir Ryder oh no mamma drago pensa che vogliamo fare del male ai cuccioli Rocky usa l'argano per afferrare il carretto subito spattete le ali spattete le ali sì sto cadendo Chase tocca a te drogorete drogorete così va meglio non c'è di che mamma drago e ricordati quando i tuoi cuccioli rimangono intrappolati nei marshmallow noi siamo a disposizione pooh patrol siamo pronti all'azione signore come sapete una banda di coniglietti ha appena invaso la festa di pasqua per questa missione avrò bisogno di Rocky userai la tua catapulta per lanciare le carote e attirare i conigli dentro la portantina semaforo verde semaforo verde signore bene al lavoro pooh patrol quella non è una papera guarda Giulio sei un coniglietto lasciate fare a me vieni qui bel coniglietto ti aspettano delle deliziose carote l'ho preso grazie Rocky oh no guarda me ne manca uno Whiskers è in cima alla ruota panoramica Sky vai alla ruota panoramica con il tuo elicottero e un cesto Whiskers è in difficoltà questo cucciolo ha imparato a volare ho appena avvistato Whiskers ti prego sta attenta si spaventa facilmente restate tutti quanti fermi cesto mi avvicino lentamente allora piccoletto devi solo saltare a bordo piano piano oh finalmente è il mio turno sulla ruota oh oh i conigli non sanno volare ma questo cucciolo si gran bella presa Sky si grazie infinite per aver salvato la festa e ancora di più per aver salvato quei coniglietti adorabili quando i conigli sono in pericolo noi saltiamo a disposizione po' patroi siamo pronti all'azione signore un favo si è rotto e la peregina sta cercando una nuova casa ma il suo ronzio ha spaventato gli elefanti per questa missione mi servirà Sky tu terrai d'occhio gli elefanti nel caso finiscano in qualche guaio questo cucciolo ha imparato a volare bene al lavoro po' patroi Ryder a Sky novità? si li vedo no tesorucci non entrate lì Ryder e gli elefanti sono entrati nel tempio presto dirigiamoci tutti al tempio Chase e Tracker trovate gli elefanti e fatevi seguire ricevuto Ryder la galleria è bloccata stiamo arrivando Tracker Rubble Marshall preparatevi al lancio aiutiamo gli elefanti ad uscire da lì Tracker aggancia i tuoi cavi a quella lastra di pietra e al gancio del Poe Patroller ricevuto Ryder cavi ora fate salire i nostri amici su quella lastra Marshall bagna il pavimento della galleria con l'acqua Robocucciolo inserisci la retromarcia e dai gas ci è mancato poco grazie per l'aiuto Popatroll ogni volta che c'è un animale grande o piccolo noi siamo a disposizione cavaliari del soccorso siamo pronti all'azione Sir Ryder signore Chloe e Sparks hanno distrutto il ponte e ora la carrozza reale non può tornare al castello quindi per questa missione avrò bisogno di Rocky semaforo verde signore e Rubble Sir Rubble come un rozzo avrò bisogno anche degli altri cuccioli io sono pronto andiamo ah bene al lavoro cavalieri del soccorso ci siamo cominciamo col riparare il ponte Rubble come un rozzo e tu Rocky tira fuori i pazzi del ponte caduti in acqua in arrivo l'osso di Excalibur che sarà mio non puoi proteggerlo da solo Chase pinze ha funzionato ha funzionato Chase state tutti bene stiamo bene Ryder principessa Chloe all'osso di Excalibur è lui il cavaliere reale a meno che io non lo fermi d'accordo Sir Chase bene pinze ora posate lentamente l'osso nel secchio e no Ryder l'osso era un falso ehi Sparks vuoi giocare con me Drago Bolas Drago Bolas Drago Rete beccato cavalieri del soccorso grazie ci avete salvati ogni volta che un ponte crolla noi siamo a disposizione po' patrò siamo pronti all'azione signore rabble è atterrato su un pianeta alieno e sembra che sia rimasto bloccato per questa missione spaziale mi servirà Chase ci pensa Chase nello spazio ottimo e ci servirà anche Rocky semaforo verde signore bene al lavoro po' patrò ehi amico come ci sei finito qui allora Chase rubble sta bene si Ryder sembra che stia bene ma invece di parlare fa degli strani suoni si riprenderà quando sarà a casa oh oh ha la zampa incastrata pinza rete salta su rubble Ryder cuccioli aiuto ehi guardate ho trovato rubble ma se rubble è laggiù allora tu non sei rubble questo non è rubble è un rubble alieno quindi rubble ha un sosia amici spero che mi sentiate perché mi serve aiuto vuol dire che rubble è ancora laggiù dobbiamo salvarlo e in fretta Skye Rocky Chase e Zuma siete tutti qui e pronti ad aiutarti rete salta su amico oh patroli siamo pronti all'azione signore grazie per la velocità cuccioli capitano turbot si comporta in modo strano sta correndo per la città sullo skate di Danny X il temerario per questa missione avrà bisogno di Chase userai il tuo veicolo per fermare capitano turbot prima che faccia male a se stesso o a qualche passante questo caso fa per Chase bene al lavoro Pou Patrol Chase tu devi trovare capitano turbot rider sono sceso dallo skate per un secondo e capitano turbot se l'ha portato via è estremamente strano non ti preoccupare riavrai il tuo skateboard Danny sono Danny X il temerario capitan turbot attento attento capitano sto per cadere credo che non riesca né a vedere né a sentire Chase prova a chiamarlo più forte che puoi alzo il volume megafono capitan turbot Chase sei tu rete grazie per avermi fatto fermare ora ci sento ma purtroppo ho perso i miei occhiali consegna speciale ottimo lavoro Zuma capitan turbot ecco qui i suoi occhiali mille grazie per il vostro aiuto ogni volta che perde gli occhiali noi siamo a disposizione Pou Patrol siamo pronti all'azione signore Robo Cucciolo segui il segnale fino al Big Rock Canyon è dove il signor Wingnut veniva inseguito dai lupi il temporale si dirige proprio verso il Big Rock Canyon ci sono molte rocce in quei canyon quindi ci servirà Rubble Rubble come un razzo e Marshall dato che sei in grado di parlare con gli animali dovrai dire a quei lupi di stare lontani dal signor Wingnut sì non aspettavo altro bene al lavoro Pou Patrol Marshall dirigiti nel canyon a sud-est lì troverai il signor Wingnut insieme ai lupi dirò loro di allontanarsi in questo modo oh no sembra un altro lupo ottimo lavoro Marshall io vado a soccorrere il signor Wingnut Ryder abbiamo un problema e ora abbiamo un altro problema Ryder quel temporale che cercavamo di evitare è quasi arrivato dobbiamo liberare il signor Wingnut prima che il canyon si allaghi Marshall porta il tuo branco fino al Pou Patroller Rubble togli di mezzo quel masso Robo Cucciolo portaci via dal canyon che cosa ci fanno quei lupi qui niente paura sono amici Pou Patroll siamo pronti all'azione signore i gattini del sindaco Hamdinger sono sull'auto del clown Toodles e viaggiano fuori controllo per questa missione avrò bisogno di Chase ci pensa Chase e Sky prendiamo subito il volo bene al lavoro Pou Patroll non temete gattini qualcuno che non sono io mi salverà la dobbiamo rallentare Sky abbassa Toodles fin sopra l'auto adesso Toodles togli la chiavetta hai un po' d'olio nel cappello con cui allentare la chiave oh no così rischia di scivolare ce l'ha fatta ottimo lavoro Toodles i miei gattini sono in salvo sì aiuto Rocky Zuma servono rinforzi siamo a poro verde signore diamoci dentro meglio affrettarsi si dirige verso la festa di Alex attenzione il sindaco Hamdinger rovinerà la mia torta non se ci sono io avete salvato la torta e la festa grazie popatroll non c'è di che Alex ogni volta che perdete il controllo di un clown noi siamo a disposizione cavalieri del soccorso siamo pronti all'azione signore Chloe il suo drago volante stanno venendo qui noi dobbiamo riuscire a tenerli alla larga dal castello ma Ryder come facciamo noi a fermare un drago volante sputafuoco con i nuovi veicoli dei cavalieri del soccorso per questa missione mi servirà Marshall userai la tua lancia ad acqua per spegnere gli incendi causati dal drago questo cucciolo cavaliere non aspettava altro ah bene al lavoro cavalieri del soccorso soccorso e adesso facciamo un buco nel ponte e assalchiamo il castello che cosa? ti conviene chiudere l'acqua ser zuppo vai e sono ser Marshall un cavaliere del soccorso Sparx prendi il volo scendi dal mio drago non posso farlo senza aver ripreso il dente di drago Sparx vola a testa in giù oh no Chase adesso drago rete sto bene ma il dente di drago magico si è rotto Marshall questo è un bene Chloe adesso non può più controllare il drago guarda Sparx aspetta no a nome di tutta Barkinburg per aver salvato il nostro regno vi ringrazio quando un drago diventa un po' troppo focoso noi siamo a disposizione oh patrol siamo pronti all'azione signore grazie per la velocità cuccioli a quanto pare il sindaco Hamdinger è rimasto intrappolato in un gigantesco coniglio di cioccolato chi l'avrebbe detto che il sindaco Hamdinger in realtà era così dolce qualcuno lo sta portando dentro al bosco e ora aspetta a noi salvarlo per questa missione avrò bisogno di Chase la spia ci pensa Chase la super spia e Skye questo cucciolo ha imparato a volare bene al lavoro Pou Patrall aiuto Skye cala l'imbracatura ricevuto Ryder oh oh Skye sbrigati il sole scioglierà il cioccolato Chase vai sul fondo del crepaccio e prepara la tua rete subito che sta succedendo? oh no l'ho mancato per un pelo wow rete Ryder il coniglio è rimbalzato e la corrente lo sta portando via aiuto Zuma abbiamo bisogno del tuo overcraft tuffiamoci dentro non ci resta che riportare il coniglio arriva Ryder abbiamo un problema oh sì quei delfini sono un po' troppo vicini Zuma devi portare arriva il coniglio è in fretta salvagenti che cosa succede? sindaco Hundinger si tenga fotte beh ve la siete presa comoda ma grazie lo stesso non si preoccupi sindaco Hundinger quando resta bloccato in un coniglio di cioccolato noi siamo a disposizione guarda gli episodi completi di Paw Patrol su Nickelodeon grazie a tutti in un coniglio grazie a tutti